L'angelo odierno di Marco racconta il celebre episodio della guarigione di un paralitico. Facciamo tre brevi osservazioni. La prima osservazione è che a Gesù preme darci il perdono ancora prima della guarigione. Il motivo è chiaro, la guarigione è solo un segno esterno che rimanda a qualcosa di più profondo e che è appunto il perdono di Dio. La seconda osservazione è notare come gli amici del paralitico sono dei potenti intermediari senza i quali il paralitico non sarebbe mai potuto guarire. Anche noi abbiamo bisogno del sostegno degli altri per essere accompagnati davanti a Gesù. La terza nota è che tra i presenti ci sono persone che non credono pur di fronte ai miracoli. Quando il cuore è indurito anche le evidenze non bastano più. Buona giornata.